No! And they rock and roll! And they rock and roll! Ciao! Se sei un vero fantastico fans, rispondi a questo quiz. Chi sono i due giocatori che hanno segnato due gol al novantesimo minuto? Ciao bene giocatori e ragazzi, oggi facciamo Italia e Belgio. Livello dilettante di FIFA 19 per PS3. Dobbiamo assolutamente vincere questa partita. Ma erroriamo già squalificati e abbiamo perso contro il Polonia. C'è Mertens! Eh no! Il signo è contro Mertens perché il signo è del Napoli. C'è ragazzi! Saranno... Il signo è del Napoli e anche Mertens è del Napoli saranno contro questa volta. E ora che sento? Ok. Allora grazie, provo a avvicinarmi un bel po'. Aspetta adesso te la passo. No! 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 No, 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 neanche ho fatto il signo di Trump. Quai? Sarà palo laterale rimessa dunque per gli azzurri. No! Andò regalando il pallone su questa rimessa. Palla verso il compagno. No! È tutto solo! Ma... Ma no! avevo rischiato Christian un altro calcio d'anno troppo lunga spazza via attento no, non fare più questi sbagli ecco, no, no è fortissimo questo Medici occhio all'uno contro uno ok non portaci un po' avanti trapasso trapasso, sono lontananza è molto forte il Medici lo stavo per prendere wow Mertens lo tiro alta si, si ok dai passa non riesco a liberarmi a spazio per andare col pallone dai non sto fermo allora vai lassù, vai lassù oh, ma perché? ma che passaggio fa? ok ti ho fatto il tunnel dai dai, dai buono dai eh, non c'è nessuno sono qui si adesso da passo tieni tu no, zero stare mi fa farlo non l'avevamo quasi fatta bravissimi io sono qua sulla fascia in basso ah ok tieni ok tieni entrante per te magari se me la crossi eh, te la voglio ho aspettato troppo forse si, infatti ho aspettato forse sono forti questi ti vengono subito addosso è com'è è com'è quando tu giochi a leggende dai 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 tira 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 gooo c'è il totale c'è il mobile c'è il mobile il tredesime al trentunesimo bravissimo mi hai fregato all'interno dell'area e hai tirato una bomba imparabile scuola a zero ci stiamo in vantaggio con il schiena mi sono passato a quello ecco lo sapevo adesso si arrabbiano adesso si arrabbiano ma io sono ancora più arrabbiato te l'avevo detto dai dribbling hai visto che è dribbling un altro dribbling attento vai passami a me magari si ok eh lo so no perché io mi sono fermato il joystick quindi ecco aspetta stai davanti a quello bravissimo dai bravo 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 dai dai liberati eh lo so te la voglio passare che l'ho presa eh lo so quando ce l'hai così liberati mamma mia rischia attento l'ho mandata via spazza spazza via non tenerla vicino eh mi hai detto tu spazza via tanto donnarumma questa volta si è allenato prima con un po' l'oglia non parlava niente tutto pronto si parte con il secondo tempo asà ma lo girai il pallone molto bene ho preso hai visto non te l'hai troppo vicino si lo so adesso ti stavo cercando te la passavo vai grazie vai 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 ti lancia l'infiltrante oppure tira eh non ti devi avvicinare secondo me troppo vicino con la palla perché ti vengono addosso se te la prendono o la passo o tiri liberati liberati te la passo quando sei vicini liberateli dai a me a me entrante benissimo no no l'ho fatto il filtrante io ho troppa paura no 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 vai passa passa ah no lì qui dai 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 no non l'avevo vista no no te l'ha bloccata lui ho fatto un tiro cross benissimo liberati tieni bene vai entrante ok grazie sopra di me sopra di te te la stavo passando spesso il tuo x e me l'ha rubata dentro eh benissimo good bye bye tira dribble ai tira no io stavo andando avanti si è fermato bravissimo Lukaku benissimo sei bravissimo ah tolto il palla bello bravissimo bravissimo c'è il recupero del pallone ha fatto un passaggio un po' scarso uh tacco bravo spazza spazza via spazza via dai 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 l'ho fatto con il cerchio così così lo spazza più in alto no si troppo spazza via basta il quadrato ma non passa anche me perché il cerchio il tiro ma tira tutta storta invece col quadrato oi oi no palo che finisce sul palo ribassa attenzione pericolo spazza libero quadrato no si 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 stiamo soffrendo ecco il cambio per provare a rimettere anche in parità la gara dai vai col quadrato no ormai ho fatto il cerchio il cerchio non è molto preciso il cerchio ok ok passi con un intervento tempestivo grazie ok adesso ti sto cercando tieni bene immobile dai vado vado io tiro gol ma ancora lui ma dove sei ah eccoti dove sei 2-0 2-0 dobbiamo stare attenti a non farmi far due golle se no andiamo ai tempi supplementari ok bravissimo che non hai fregato sarebbe fallo dove sono? sono arrabbiati eh vai 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 sei solo attento vai bravissimo se riesci ancora a dribblare questo siamo a posto vai peccato peccato potrei tirare se si riuscirà qualche passo attento non andavi troppo vicino però crossarla ok crossa eh lo sopevo ho schiacciato e me l'ha subito rubata insigne si ma di testa di testa eh non c'era wow guarda 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 hai presa hai presa tira occasione no me l'hai fermata tu certo sarebbe stata virtualmente chiusa la gara l'avevo fatto e me l'hai chiusa guardate il tocco di testa attento eh rischiosissimo ancora tre minuti prima del fischio finale ancora tre minuti prima del fischio finale ok attento vabbò mamma mia oh no 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 c'è un segno alto bravura eh bravura bravura vincendo al 90 no no abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo vinto è finito finito abbiamo vinto grazie ci date la coppa siamo in qualificazione e vai e vai tira 3 a 1 Federico Chiel 3 a 1 abbiamo vinto finisce la partita grazie finisce il secondo tempo 3 a 1 abbiamo vinto finito ahah torti vado a far gol fischia l'arbitro la partita si chiude sul 3 a 1 e spero di aver questo vi sia piaciuto ciao ciao da Krikrik JTV e ciao ciao e abbiamo vinto grazie a tutti